Oggi Resbellica vi presenta Una cosa piuttosto fuori dal comune per la nostra attività solita Parliamo di armi da fuoco ad avancarica E vi presentiamo Luca Torelli, titolare della LT Custom Ditta che si occupa di riparazione e realizzazione di armi da fuoco Questa è una manesca che è un esempio della prima arma da fuoco portatile in Europa Perché poi anche in Estremo Oriente si hanno anche altri esempi in altri periodi antecedenti Perché la polvere da sparo si pensa che sia nata in Cina anche secoli prima Diciamo degli esempi in Europa Quindi in che periodo siamo? Allora siamo a metà del 1300 Perché prima, quindi nella seconda metà del 1200 e fino al 1350 Venivano utilizzate in Europa solo le artiglierie Quindi cannoni in sostanza Si crea poi l'esigenza in battaglia di avere un'arma da fuoco ma portatile Quindi non solo un'artiglieria E si pensa che nella seconda metà del 300 non si sa bene in che anno Comunque nella seconda metà del 300 Vengano fuori queste manesche Che possono essere imbracciate e utilizzate da una o due serventi A seconda dei casi Questo in particolare è l'esempio di una manesca tedesca Che anche qui dai musei, dalle fonti e dai ritrovamenti Si pensa sia proprio del 1350 o comunque intorno al 1350 E quella originale di questo modello è in bronzo Sempre con la canna ottagonale di questa forma Di cui abbiamo riprodotto la stessa forma in generale Ma è in acciaio, come materiale abbiamo utilizzato l'acciaio Che è più sicuro per l'utilizzo moderno Certo perché la sicurezza è sicuramente una cosa importante Ma che cosa ti ha dato lo spunto per dedicarti alla ricostruzione di quest'anno? Sono appassionato comunque di storia Faccio parte di un gruppo di revocazione storica medievale Il nostro gruppo ha abiti e armature della prima metà del Trecento Ma stiamo un po' spaziando anche più avanti Quindi ho visto anche l'interesse Parlando con altri gruppi di revocazione in vari avvenimenti Che tanti sono interessati proprio ad approcciarsi alle armi da fuoco Già in questo periodo Sapendo comunque che ci sono reperti Tanti amici pensavano ci fossero reperti Allora ho cominciato questa ricerca Di reperti fisici Cioè reperti nei musei Ma anche di fonti fonografiche E anche proprio di scritti Di personaggi esistiti Come ad esempio c'è Francesco Di Giorgio Martini Che è un architetto e ingegnere Che è vissuto tra il 1400 e il 1500 Che ha scritto in uno dei suoi testi Abbiamo proprio le misure Esattamente le misure Le tipologie, le forme E i materiali con cui erano fatte le manesche Quindi possiamo dire che è possibile ricostruirle Con una buona certezza Poi ovviamente le foto o i disegni Non ce ne sono in queste fonti Ma abbiamo qualche reperto in qualche museo Soprattutto nei musei tedeschi Perché spesso venivano dalla Germania Quindi ho visto questi reperti Ho provato a replicarli in qualche modo Quindi diciamo che mancava un po' nel panorama O comunque ancora poco rappresentata Quindi un contributo a ricostruire La storia trecentesca e quattrocentesca In modo più dettagliato La nostra azienda produce interamente tutte le parti Quindi prendiamo ovviamente legni di essenze europee Perché ovviamente all'epoca si potevano usare solo quelle E le canne le ho prodotte tutte in acciaio Un acciaio che ha una formulazione apposita Per le canne delle armi da fuoco Comunque ha certe caratteristiche Che sono mirate alla sicurezza Quindi all'epoca c'era del ferro E c'era il bronzo Però non si può più utilizzare Proprio per motivi di sicurezza Potendo utilizzare queste armi anche Sia a salve in un contesto di rievocazione storica Sia volendo anche al poligono con una palla Bisogna che siano sicure Ma quali caratteristiche devono avere? Queste armi innanzitutto sono armi Che sono fabbricate da un fabbricante Che ha una licenza di fabbricazione armi Quindi non ci si può improvvisare fabbricanti Perché non si può pensare che è un tubo Con un focone che è semplicemente un furolino Da cui si accende la miccia E quindi lo si può produrre E' a tutti gli effetti un'arma E' un'arma a tutti gli effetti Per lo Stato italiano è un'arma da fuoco Anche sia da avancarica Che va testata e provata dal Banco di Prova Nazionale Il Banco di Prova Nazionale Appone dei marchi Quindi vengono provate Testate con una pressione superiore A quella di esercizio poi normale Quindi con una carica superiore Con una carica doppia Quella che viene consigliata per l'utilizzo E se non succede niente Se non esplode Se non si rovina Viene bancata Diciamo se supera il test positivamente Vengono apposte questi marchi Che testimoniano Che è stata costruita a regola d'arte Da una ditta che sa quello che produce Che ha una licenza Esatto che ha una licenza Ovviamente che è autorizzata a produrla E quindi vi garantisce Di poterla utilizzare in tutta sicurezza Essendo un'arma da fuoco Va usata sempre in assoluta sicurezza Quindi può essere usata da una o due persone Può essere usata in contesti di battaglie campali Come in assedi Chiaramente Storicamente è più adatta alle battaglie campali Perché è un'arma contro gli uomini Quindi per uccidere E non per sgretolare mura È un'arma che utilizza polvere nera E può utilizzare solo polvere nera Come c'è scritto sopra la canna Per legge La polvere nera è una polvere da sparo Instabile Che si accende Con pochissimo calore E anche solo una scintilla Anche che proviene da lontano Quindi è altamente esplosivo Ovviamente Quindi bisogna stare attenti Sia a come la si ripone Dove si ripone Durante i viaggi E tutto Quindi è tutta Quando si utilizzano queste armi E non si usano solo Da parata Da far vedere È una cosa comunque complicata Il fatto della gestione generale È proprio una cosa A cui stare attenti L'arma viene venduta Con un manuale Di uso e manutenzione Che In cui ci sono inserite Le cariche di polvere consigliate E la tipologia di polvere Perché anche di polvere nera Ce ne sono di vari tipi Quindi sono consigliate Certe tipologie Certe cariche di polvere E ci sono le istruzioni Per il caricamento Per l'eventuale scaricamento Se l'arma facesse cilecca E per la pulizia Perché la polvere nera È molto corrosiva Quindi Se l'arma non si pulisce Poi Ci sono dei problemi Può corrodersi E poi Anche Rovinarsi O rompersi In uno sparo successivo Quindi si Rendere l'arma Potenzialmente Non più idonea Esatto Non più idonea Direi un argomento Molto interessante Soprattutto perché È poco consueto E prossimamente LTCustom In collaborazione Con Resbellica Vi proporrà Un tutorial Sull'uso E manutenzione Di questo tipo Di arma Ad avancarica